55esima edizione di Vinitaly, Ettore Nicoletto, CEO Angelini Wine Estates, i risultati appena pubblicati del gruppo, come sono? I risultati sono veramente molto buoni, il 2022 è stato un anno di grande crescita, più 18%, venivamo da un più 22, più 23 dell'anno precedente, quindi facciamo un grosso risultato, un grosso recupero e siamo anche molto ottimisti per il 2023, che sicuramente è un anno che si confronta con un contesto complesso, non vi elenco tutte le criticità che dobbiamo fronteggiare perché sono state dette e ridette, però dal primo trimestre del 2023, confrontandoci con il trimestre dell'anno precedente, traiamo comunque dei riscontri positivi, che riteniamo essere bene auguranti per il prosieguo del 2023. Certamente il secondo trimestre del 2023 sarà più difficile, ma poi vediamo una ripresa a partire dal secondo semestre, quindi fiducia, ottimismo e ci mancherebbe anche che fossimo pessimisti. A livello di brand, Bertani sta ritornando ai fasti di un tempo? Insomma, io direi che Bertani non se n'era mai andata, è lì, l'abbiamo un po' risvegliata, rienergizzata, ci sono moltissimi progetti, tra cui spicca quello della Library, Library è un progetto che mira a valorizzare questa biblioteca del tempo, fatta di 48 annate di Amarone e della Valpolicella Classico custodite nelle segrete, nelle cantine di Bertani a Grezzana, 48 annate che attraversano sei decadi, un patrimonio che vogliamo raccontare perché con questo racconto raccontiamo la storia di Bertani. Questo Vinitaly avete fatto un super evento fuori la fiera, come sta andando? Ma insomma abbiamo fatto un evento celebrativo, un evento dove il protagonista è stato Bertani, il marchio Bertani, all'insegna della convivialità e del ritrovarsi, insomma siamo molto contenti. Per quanto riguarda il Vinitaly è un Vinitaly certamente affollato, un ritorno da protagonista nell'impianto fieristico internazionale e devo dire anche un forte interesse da parte dei rappresentanti del governo che sono venuti qui con una rappresentanza nutrita probabilmente a segnalare che il settore del vino è molto importante per il sistema paese e va supportato e quindi questa presenza va salutata con grande positività.